ho trovato come si rimette la chat perfetto, allora dicevo oggi voglio andare a vedere un video uscito da poco del professor Corrado Malanga che parla del momento in cui stiamo vivendo il professor Corrado Malanga è molto una persona diciamo non è molto famosa dal mainstream perché ovviamente sappiamo come funzionano al mainstream alcune cose non vuole che si sappiano oppure non pensano ciao Arge, non pensano che sia non pensano che siano delle persone a cui dare conto il professor Corrado Malanga è stato ricercatore di chimica presso l'università di Pisa pubblicato su molteplici riveste scientifiche internazionali degli articoli quindi è uno che pubblica pure cose scientifiche è uno scienziato uno scienziato che si è adoperato alla ricerca degli UFO gli oggetti avanti notificati ma a livello biochimico ok quindi non a livello gli UFO esistono perché ce lo dice ce lo dice il Papa al Presidente degli Stati Uniti d'America ma andare sulle tracce di dove si presume ci siano stati gli avvistamenti e vedere se c'erano tracce biochimiche di materiali che non erano ancora stati prodotti sulla terra o di consistenza diciamo differente da quella della terra quindi comunque è una persona che poi ha cambiato diciamo si è occupata di ufologia poi si è occupata di alieni poi si è occupata di coscienza quindi è uno scienziato dal mio punto di vista completo che non si affida soltanto alla scienza ma anche alle scoperte al continuare a elaborare delle scoperte continuare a elaborare delle teorie non solo sul campo professionale scientifico ma anche sul campo umano coscienziale tutti i suoi studi sono correlati da studi scientifici dalla chimica la fisica la fisica quantistica non sono parole dette da qualcuno a caso sono parole dette da un qualcuno che ha consapevolezza di sé di quello che di quello che ha intorno di ciò che succede di ciò che accade è uno scienziato che sa pensare con il proprio cervello e noi sappiamo abbiamo tanti esempi di scienziati che sanno pensare con il proprio cervello cioè i scienziati che hanno fatto le scoperte più eclatanti nella storia dell'uomo questa sera andiamo a vedere le parole che riguardano praticamente il periodo in cui stiamo vivendo ok qui c'è qualcosa ah ecco ok ok si ci sta no 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 pensavo fosse un problema invece è andato bene allora io adesso ovviamente farò scorrere il video farò andare avanti il video nel momento in cui ci sarà qualcosa di cui discutere di cui parlare magari di cui dibattere se qualcuno ha qualche domanda riguardante insomma ovviamente il video deve essere visto tutto prima di fare domande magari le risposte le darà direttamente il professor Malanga su questa intervista educazione sul sito intervista concessa diciamo non è proprio l'intervista ma le persone che hanno aperto il sito me più punto com le hanno fatte una domanda e lui ha domanda risposto perché lui dice gli zombie non fanno domande e non danno risposte quindi nel momento in cui poi lo dirà anche lui nel momento in cui mi fanno una domanda lui dice io mi sento ho tenuto a rispondere ma così come deve essere deve essere così anche nella scienza no? non solo non solo una cosa di rispetto umano di 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 responsabilità nel momento in cui si viene ci viene posta una domanda noi comunque si sentiamo in dovere di rispondere perché una domanda senza una risposta è come se in quel momento affermassimo che non esistiamo no? nel momento in cui non rispondiamo non esistiamo non esistiamo per gli altri perché non diamo una risposta perché gli altri cioè perché dobbiamo sfuggire alle realtà pure se scomoda ecco alcune volte bisogna anche rispondere della realtà visto che ci viviamo dentro visto che facciamo anche noi delle scelte e dobbiamo renderne conto di quella scelta che facciamo no? cioè non agli altri ma per un fatto anche ma anche per noi stessi poi adesso lo dice lui quindi lui ha adesso andiamo avanti andiamo avanti vediamo direttamente il video senza che faccio troppe troppe troppo incipit diciamo ne più mi ha chiesto di dare una mia opinione su ciò che sta succedendo in Italia e nel mondo in questo momento e il mio problema è che quando mi fanno una domanda mi sento in qualche modo obbligato a rispondere mi ricordo per esempio quando lavoravo al dipartimento di chimica che il mio direttore della sezione di chimica organica mi chiese caro Corrado cosa ne pensi di me e io gli risposi guardi il professore ha 30 secondi di tempo per ritirare la domanda se no sono costretto a dirglielo in quel contesto il professore ritirò la sua domanda ecco questa qui è una piccola parentesi voglio fermarmi un attimo io ammiro moltissimo l'onestà intellettuale di questa persona non ha paura di dire ciò che pensa anche perché come lui sottolinea sempre è un suo modesto punto di vista cioè nel senso nel momento in cui una persona dice cosa ne pensi di cosa ne pensi di quella persona risponde secondo il proprio punto di vista che non è detto che sia giusto ma è un punto di vista è un punto di vista che va accettato va appreso per quello che è ovviamente tante persone lo prendono sul personale tante persone si sentono magari attaccate dai punti di vista diciamo che è un po' un cane che si morde la coda perché le stesse persone che hanno un punto di vista differente dall'altra possono pensare di non rispettare quindi la scelta dell'altra persona di avere un punto di vista e quindi tra virgolette essere entrambi in colpa ok? di un punto di vista differente che poi dipende dal punto di vista ovviamente non non mi soffermo ovviamente sulle azioni che vanno contro il genere umano perché comunque le azioni vanno contro se tu fai un'azione contro qualcuno la fai contro te stesso non la fai solo contro l'altro vabbè comunque andiamo avanti me più non ha ritirato la domanda quindi sono costretto a dire cosa penso della situazione di oggi e ho pensato almeno tre giorni a come iniziare questo tipo di intervento so perfettamente che scusate ho pensato almeno tre giorni questo significa che riflettere su una cosa dare una risposta esaustiva utilizzare il proprio intelletto per esaudire a una richiesta una risposta di delucidazione a un altro significa impegnarsi anche per se stessi perché nel momento in cui qualcuno ti mette di fronte un un quesito tu per risolverlo cioè se tu nel momento in cui lo risolvi ne prendi consapevolezza è un bene anche per te non è bene anche per chi riceve la risposta e molte persone purtroppo non sono abituate a riflettere danno una risposta come si dice di pancia e cioè non di pancia tipo ventrilo danno una risposta per quello per la reazione che avviene ad un input ad un input che non è ragionato quindi è un input una un qualcosa uno stimolo quello stimolo viene ovviamente in base alle esperienze che la persona ha avuto viene elaborato viene trasformato poi in emozione e la persona risponde in base all'emozione che ha provato nel recepire quell'input quindi diciamo che non è un ragionamento pesato ok è una risposta data per quello stimolo che abbiamo ricevuto che è praticamente influenzato nelle nostre esperienze passate ma la nostra esperienza passata non è una e una sola la nostra esperienza può mutare nel tempo oppure può risultare un circolo nel momento in cui noi non non apriamo consapevolezza di ciò che accade nei nostri confronti quindi finché non capiamo che cosa succede intorno a noi noi ripetiamo la stessa identica situazione nel momento in cui l'hai capita sta cosa? no te la faccio rivivere l'hai capita? ok fino a che non la capiamo quindi va un pensiero va elaborato prima quindi ci vuole del tempo per dare una risposta quindi io ammiro chi non ha mai la risposta pronta perché significa che ragiona con la propria testa ok ragiona con la propria testa in base a ciò che vede in base a ciò che non ciò che prova ma con un pensiero critico andiamo avanti tutto quello che dirò è una mia opinione e che quindi deve essere presa come tale non ho la battetta magica per dire che io ho la verità in tasca è il mio punto di vista e siccome mi è stato chiesto ve lo dico altrimenti io ho l'abitudine scusate questa imprefazione di stare zitto quando nessuno mi chiede nulla ma se mi chiedono cosa ne penso io sono costretto a dirlo ecco dopo tre giorni di riflessione ho pensato di dirvi questo l'altro giorno stavo andando al mare vado alla spiaggia libera prendo l'autobus faccio mezz'ora tre quattro d'ora di autobus e mi siedo accanto a tutta la popolazione dell'autobus mi giro mi guardo intorno e vedo e capisco stop un attimo la popolazione all'interno dell'autobus secondo alcune informazioni che ho preso adesso non mi ricordo come però ho elaborato alcune cose eccole qua anzi servirebbe il cellulare per riprendere questi appunti però ce l'ho ma dovrei collegarlo allora vabbè comunque eccolo qua l'essere contestuale l'essere contestuale eccolo qua l'essere contestuale le quattro stelline è quel piccolo insieme che possiamo vedere su questo su questo foglietto su cui mi sono appuntato praticamente l'essere contestuale è la coscienza la piccola coscienza collettiva che vive all'interno di un contesto ora il contesto può essere in un autobus il contesto può essere al bar quando si dice chiacchiere da bar si fanno delle chiacchiere in un contesto quindi c'è una coscienza collettiva ristretta in quel contesto dunque ha visto che sono delle persone dentro un autobus quindi ha notato è stato in mezzo alla popolazione dell'autobus e sentiamo cosa in quel contesto in quel contesto in quel diciamo ha passato l'esperienza di quel contesto e questo è quello che è riuscito a capire che sono immerso in una strana società la gente con la mascherina la gente che guarda il telefonino abbastanza beutamente devo dire la gente che si nutre di immagini che vengono dall'esterno proprio perché il telefono la televisione dice tutta una serie di cose a cui te evidentemente credi perché le stai a guardare perché se non ci credessi non le guarderesti e mi rendo conto del guidatore dell'autobus che rimprovera chiunque osi entrare nell'autobus con la mascherina abbassata minacciando di cacciare mi sono sentito come in quel film di zombie in cui io però non ero lo zombie lo zombie gli zombie erano tutti gli altri coloro che si erano in qualche modo zombizzati c'era stato un virus che li aveva zombizzati come si vede nei film di fantascienza e loro avevano perso se mai lo avessero avuto il buon senso e le persone se mai lo avessero avuto hanno perso il buon senso se mai lo avessero avuto ovviamente mi sono sentito come in quel film di fantascienza quando te sei l'unico che tecnicamente non è stato ancora colpito dalla zombizzatura di questo di questo discorso c'è un film molto interessante che consiglio di vedere ed è anche molto divertente perché non è un film serio di fantascienza vabbè è un film dove c'è un po' di ironia anche l'attore principale è un ex rotto di pre-estering il film vabbè il film si chiama essi vivono praticamente al contrario cioè secondo secondo diciamo secondo la simbologia diciamo adesso se io mi metto gli occhiali no se io mi metto gli occhiali è perché io voglio filtrare voglio vedere meglio voglio vedere meglio ciò che mi sta intorno ok se io ho bisogno degli occhiali significa che non vedo bene e che voglio vedere meglio ecco attraverso degli occhiali che sono non so tecnologie qualsiasi tecnologia non so non mi ricordo il protagonista vede le persone che sono non zombificate però sono degli alieni ok vedete le persone noi viviamo vive nel mondo normale con le persone solo che questi occhiali gli fanno vedere quali persone sono alieni e quali no ok quindi si mette gli occhiali che poi sono occhiali scuri praticamente come per non vedere non vedere il mondo zombificato invece li vedi zombificati e quindi si mette gli occhiali scuri molto divertente il film lo consiglio di andare a vedere forse parlerate questo non lo so però andiamo avanti e guarda se in giro per caso cerca di scrutare con gli occhi con lo sguardo se c'è qualcun altro come te in quell'autobus che la pensa come te che pensa che tutti gli altri siano stati zombizzati cioè che non abbiano la comprensione di quello che in realtà sta succedendo che abbiano perso completamente la bussola che non sappiano da un punto di vista né tecnico né scientifico né morale né naturale né religioso né storico non abbiano compreso quello che sta succedendo quindi non è un problema soltanto scientifico non è un problema di conoscenza del virus è un problema di conoscenza generale capite dove sta l'inghippot capito dove sta il problema che ne deriva il non essere consapevole di alcune persone che è un fatto non solo scientifico ma comprende tutto comprende tutto la scienza la morale la religione quindi comprende tutto mi guardo in giro e trovo qualche altro sguardo perplesso come me ma non abbiamo il coraggio di dirci anche te pensi che sia tutta una cazzata perché se no gli altri gli zombie comincerebbero a fare come si vede nei film di fantascienza e ti vorrebbero mordere attenzione da specificare che questa non è un'affermazione negazionista attenzione attenzione da specificare che non è un'affermazione negazionista non che sia tutta una cazzata e che sia tutta un'invenzione il virus quindi lo dico perché molte persone appunto come ho detto già prima non sono abituate a pensare quindi reagiscono secondo uno stimolo che entra in base alle emozioni in base al vissuto faccio un esempio una persona che magari ha perso un proprio caro a causa del virus dice negazionista non è giusto quindi specifico che questo non è un pensiero di un negazionista ma è un'altra cosa che andiamo a vedere adesso devo costringere a essere anche te uno zombie e come si fa devi fare la punturina quella punturina che farà diventare tutti zombie ecco qui parla parla ovviamente del vaccino quindi parla del vaccino e poi andiamo a vedere andiamo a sentire più che altro l'approfondimento non proprio sulla tecnica del vaccino ma sul sui quesiti che noi andiamo a porre allo scienziato che propone il vaccino o meno di salvezza e che quello scienziato poi a un certo punto non sa più rispondere questa è stata l'impressione che ho avuto in un 45esimo di secondo della situazione in cui io ero torno a casa guardo su youtube le novità e scopro che su youtube ci sono tanti filmati tante interviste di persone che stanno denunciando questa situazione un po' da un punto di vista politico e dicono non c'è più la democrazia un po' da un punto di vista religioso non abbiamo più la libertà di frequentare le chiese di seguire i nostri culti un po' la libertà sociale qualcuno si lamenta che non possono più andare al ristorante non possono più andare a trovare gli amici manifestazioni di piazza e non trovo quasi nessuna non ho trovata una sola manifestazione contraria cioè favorevole alla puntura esatto allora qua c'è un grosso problema c'è un grosso problema perché se ci sono le persone che protestano non ci sono le persone che manifestano pro la manifestazione quella vera quella vera viene fatta in piazza la voce viene praticamente viene sparsa vengono fatte le manifestazioni esprimendo il proprio dissenso dal vivo nelle piazze in carne ed ossa noi ci siamo tutto tutto e per tutto in carne ed ossa e con il nostro pensiero che poi tra virgolette molti di quelli che vanno non so molti però comunque determinate persone che vanno a queste manifestazioni hanno un pensiero che è spinto appunto da questi stimoli da queste emozioni da questi stimoli che generano queste emozioni ma che non hanno un nesso logico ok queste persone possono avere un punto di vista sbagliato nel nell'esprimere il proprio dissenso nella terminologia nel mettere diciamo come negazionisti come chi non ha nessuna motivazione vera reale per motivazione vera reale a parole che si sa esprimere per la quale non accetta di sottomettersi a questa a questa terapia sperimentale ma nel proprio profondo nella propria coscienza sa che comunque è sbagliato non è sbagliato per se stesso e per come vede che è gestita all'esterno la problematica perché comunque poi lo spiegherà il professore più avanti la consapevolezza dell'essere umano è in continua crescita adesso andiamo avanti comunque lui la spiega meglio io sto un po' rimbambito quindi non riesco a spiegare molte cose e a collegare bene i concetti ma perché mi sono chiesto tutti coloro che si esprimono su youtube sono per un ripristino della situazione come era prima tra virgolette come mai invece coloro che si sono vaccinati stanno sostanzialmente zitti beh una risposta potrebbe essere che sono zombizzato e se te sei zombizzato sei zombizzato non puoi esprimere la tua volontà perché perché il vaccino te l'ha tolta oppure perché non ce l'avevi nemmeno prima e allora mi sono messo a pensare chi sono coloro che hanno accettato di essere zombizzati ci sono almeno tre categorie due o tre categorie i primi sono gli ignoranti totali cioè coloro che non hanno la più palida idea di cosa sia un vaccino di cosa sia una terapia genica di come funzioni non hanno letto lavori scientifici non hanno la capacità di farlo è normale insomma non tutti sanno fare un lavoro scientifico e loro si sono veotamente fidati di quello che dice lo zombizzatore capo ecco allora questa è una piccola parentesi mi fermo perché voglio appuntarmi una una cosa la prossima volta cercherò di mettervi la seconda webcam così vedete gli appunti quindi c'è allora vi faccio uno schemino vi faccio uno schemino e poi lo faccio vedere allora c'è il il capo zombie per farvelo un po' semplice il capo zombie e poi lui dice ci sono tre categorie io la metto proprio in termini no diciamo l'ignorante si affida a eccolo qua zombie alfa si lo zombie alfa esatto allora secondo questo schemino c'è un capo zombie il capo zombie poi ha tre sottoposti facciamo questo esempio c'è il sottoposto ignorante che fa esegue la macchina cioè esegue soltanto l'ordine perché non ha la capacità di analizzare sia a livello scientifico non ha la capacità non solo nello scientifico non ha la capacità di analizzare ciò che gli viene proposto quindi si affida non avendo la capacità poverino non avendo un grado di consapevolezza vedete appunto perché questione di consapevolezza non è colpa sua non è consapevole di quello che sta facendo e si affida al al capo zombie allo zombie alfa poi andiamo avanti questa è la prima categoria altri che sono la maggioranza e ho potuto constatare questo in questi 3-4 giorni sono coloro che sono stati costretti a zombizzarsi perché se no non avrebbero più lavorato non avrebbero più potuto stare ed esprimersi nella società perché gli sarebbe stata tolta tra virgolette sempre quella strana è una cosa che loro chiamano libertà e poi ci sono i conti aspetta allora poi c'è una terza una seconda categoria che sono gli obbligati i costretti i costretti meno lavoro meno libertà meno diritti questi questa secondo il punto di vista eseguono secondo il punto di vista del professor Malanga secondo anche il mio ovviamente eccolo qua ci sono gli obbligati i costretti oltre all'ignorante che si sta sottoponendo e si affida al capo zombie ci sono a detta del professor Malanga la maggior parte la maggioranza di obbligati di costretti che eseguono l'ordine perché altrimenti a detta del capo zombie non avrebbero più lavoro non avrebbero più la libertà non avrebbero più diritti e soprattutto la dignità ecco metto a fuoco però aspettate un attimo che mi costa fare un attimo così allora un attimino che provo a fare provo a mettere la webcam cellulare add camera copio to clipboard me la mando su su telegram dov'è un attimino almeno stiamo un po' più comodi ops.ninja ok fatto utilizzo ops.ninja non so se funziona bene così c'è un qualcosa davanti che c'è davanti ah no non è non c'è niente davanti non so se funziona però perché ci sarebbe da sistemarla un attimo allora aggiungo aggiungi scena no 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 non scena non scena no 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 ecco principale modifica aggiungi il livello browser fonte browser aggiungi ok allora apro un attimo telegram dov'è ah ecco ok col link altri due minuti e poi riprendiamo ecco riprendo questo fonte browser sfoglia incolla qui link ecco qua ole non si vede nulla devo disattivare il microfono ok adesso il microfono è disattivato non si vede bene non si vede bene forse troppa luce non lo so mamma mia devo tenerlo in qualche modo mi devo organizzare molto 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 meglio perché così è proprio brutto dov'è la web che ma sta qua devo comprare anche una lavagna salva è la luce dello schermo infatti ok quindi abbiamo detto c'è il vediamo sopra qua sopra pressione c'è il capo zombie cioè io non riesco a vedere io non riesco a vedere giuro non riesco a vedere se se è visibile o no il testo se è messo a fuoco oppure no scusate no ok eh perché allora non si vede bene forse devono grandirlo modifica vediamo è uguale cioè proprio non non si legge bene non metto a fuoco ma che succede vabbè che è quella anteriore la camera facciamo così allora scrivo su un altro taccuino vedete qua che sto scrivendo si lo vedete togliamo un attimo questo vediamo un po' ecco così va va bene così però devo ovviamente devo fare in modo di ehm di girarlo vediamo vediamo se posso girarlo già così capovolgi ecco già così va un po' meglio leggermente meglio secondo secondo me eh poi non lo so ecco dunque c'è il capo zombie rirovescio lo schermo così non va bene non va bene così io così lo vedo bene così al contrario eh così al contrario quindi così così dovrebbe essere ecco un po' più piccolo però non grandiamo un attimo ecco così forse è meglio allora quindi c'è un capo zombie poi c'è ci sono tre categorie l'ignorante non si vede lo stesso perché scrivo troppo piccolo ignorante poi c'è devo scrivere così come capo zombie poi c'è il costretto perché costretto meno libertà meno lavoro meno dignità meno diritti ecco ecco qua ecco qua e il costretto esegue come esegue l'ignorante che si affida completamente al capo zombie capo zombie dice tu ti devi vaccinare perché vaccinare perché lo dico io perché lo dico io nel senso tu ti devi vaccinare perché tanto quello che ti spiega la scienza non lo capisci lui c'è l'ignorante dice va bene mi affido e quindi eseguo poi c'è il costretto il capo zombie dice tu avrai meno libertà tu avrai meno lavoro meno diritti e meno dignità quindi essendo sentendosi sentendosi non essendo costretto perché essere è diverso da sentirsi eh credere di essere ed essere è diversa la cosa un matto che si crede Napoleone non è Napoleone ok quindi il costretto fa questo il zombie già ci sono quindi gli zombie già ci sono ok facciamo ecco mettiamolo un po' più così forse no così no diverso non siamo no attenzione c'è il capo zombie che dice adesso 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 lo vediamo andiamo avanti adesso lo vediamo secondo il suo punto di vista ovviamente andiamo avanti che sono pochissimi eh a eh zombizzarsi perché se no non avrebbero più lavorato non avrebbero più tutto eh più potuto stare ed esprimersi nella società perché gli sarebbe stata tolta tra virgolette sempre quella strana cosa che loro chiamano libertà e poi ci sono i convinti che sono pochissimi i quali eh sono un po' talebani da questo punto di vista cioè convinti che bisogna fare quello che dice il potere perché così si fa ecco qua questo è il terzo filone che sono i convinti non metto a fuoco forse la cam secondo me la cam sì è vero c'è ragione hai ragione devo scrivere dritto perché è difficile ecco qua quindi ci sono poi uffa i convinti che sono quelli appunto estremisti coloro uguali dicono il governo dice che si deve fare guardiamo le parole di una personalità molto importante dei personalità molto importanti del nostro del nostro paese che dice che dicono che il vaccino è un dovere civico e morale estremisti convinti si deve fare perché lo dice il codice civile il codice civico è morale ma io non sto facendo contro nessuno sto facendo soltanto sto commentando le parole del professor curato malanga e poi non me ne frega non me ne frega una ceppa cioè nel senso io non sto combattendo contro nessuno sto cercando di far ragionare le persone si nella lista se capirai no non è proprio così la quantità messa insieme di queste persone raggiunge statisticamente secondo il governo i due terzi della popolazione italiana un terzo della popolazione italiana in questo istante è essere fatto quindi questo questo qua sono i due terzi degli italiani i due terzi dell'italia dunque i due terzi dell'italia dunque sono questi qua l'ignorante il costretto e gli estremisti i convinti provare l'intervista magari magari il professor malanga magari intervistarlo sarebbe una cosa bellissima per me perché io poi l'ho incontrato pure dal vivo ho tutti i suoi libri è una carissima persona però capisco che è difficile è difficile sì sì ce l'ho ce l'ho il contatto però però non ha pure delle ragioni per non rispondere a tutti raga cioè non è che non è che può rispondere a tutte le persone vabbè comunque andiamo avanti ancora non è stato zombizzato no nessun prezzo il professor malanga no 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 il professor malanga è una persona che non ha prezzo cioè veramente dal cuore d'oro ma lui praticamente tutti gli studi tutti i documenti che ha messo a disposizione sono stati fatti in maniera gratuita tutti gli studi che ha fatto tutta la ricerca lui ha fatto in maniera gratuita in maniera gratuita è disponibile per tutti i suoi propri siti quindi ha paura di essere zombizzato e la paura non è tanto quello secondo me di perdere la libertà è quella di perdere il segno cioè la incapacità di poter scusate andiamo un attimo indietro perché voglio prendere tutto il discorso convinti che sono pochissimi i quali sono un po' talebani da questo punto di vista cioè convinti che bisogna fare quello che dice il potere perché così si fa la quantità messa insieme di queste persone raggiunge statisticamente secondo il governo i due terzi della popolazione italiana un terzo della popolazione italiana in questo istante è essere fatto ancora non è stato zombizzato ha paura di essere zombizzato e la paura non è tanto quello secondo me di perdere la libertà è quella di perdere il segno cioè la incapacità di poter in qualche modo ragionare con il proprio cervello e così si viene a scoprire una cosa con la unità è che chi non vuole essere zombizzato ha un si caratterizza da un da un difetto chiamiamolo così ragiona con la sua testa ragiona con la sua testa non riesce a comprendere sostanzialmente e a fondo cosa sta succedendo ma si sta accorgendo che c'è qualcosa che vuole obbligarlo a ragionare come vuole qualcun altro eh questa è qualche cosa di molto 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 pericoloso e noi ci dobbiamo chiedere ma perché siamo giunti a una situazione del genere io non voglio qui fare un discorso sulla eh bontà della zombizzazione o eh il contrario eh vorrei accentrare l'attenzione di chi mi sta ascoltando sulla capacità di comprendere eh è da circa 50 anni che le nostre scuole sono andate in un degrado totale la scuola elementare che era sostanzialmente il fiore all'occhiello di tutte le scuole elementari d'Europa si è totalmente degradata anch'essa ecco discorso molto importante che succede che è successo perché non riusciamo più a ragionare il professor Maranga trova nell'origine nella radice no sto andando ok giro nella scuola elementare ok ok degradata negli anni dunque la scuola elementare ha detto il professor Maranga è degradata negli anni esatto perché è più facile ragionare come fanno gli altri perché c'è già qualcuno al posto nostro che ci ha detto questo si fa così avete visto quante persone non sanno distinguere tra il verbo avere quando quelle persone che mettono sono andate voglio andare a casa e lo scrivono con l'h perché non sanno che non sanno distinguere tra l'avere non hanno le basi adesso sono un po' rimbambito avete capito forse il discorso no? quelle persone che mettono l'h con l'h quando non devono oppure non la mettono quando dovrebbero avete capito esatto aspetta meglio una generazione ignorante che uno studiato ma ok si ignorante perché mazza il termine non era consentito pensato che automod quindi perché è meglio è meglio ovviamente perché bisogna andare verso un pensiero unico e cioè qual è giusto è giusto quello che ti dice la scuola quello che ti diciamo noi adesso andiamo avanti io lo so perché ho fatto 40 anni di insegnamento a tutti i livelli mi ricordo quando facevo l'insegnante delle maestre della scuola elementare per portare il modulo di scienze nella nuova scuola elementare che si sarebbe dovuta riformare e allora noi avete capito cioè lui praticamente faceva da professore a le insegnanti della scuola elementare che dovevano portare scienze quindi gli insegnanti di scuola elementare appunto mi fa mi fa pensare ma allora gli insegnanti di scuola elementare non sono scienziati non hanno fatto la carriera scientifica diciamo non hanno provato sul campo le vere scienze quindi sanno per sentito dire tra virgolette quindi l'istruzione è un po' degradata in questo modo no? no non so se non sono laureate o non il fatto non sono laureate per fare magari ecco non sono laureate in scienze in qualche scienza ovviamente però vediamo vediamo un po' qua io chiedevo alle maestre modulo di scienze che cosa fa un pezzo di ferro nell'acqua e le maestre dicevano va a fondo e quando dicevo come mai le navi che sono di ferro stanno a galla le maestre non sapevano rispondere in un secondo test chiedevo allora quindi alla domanda alla domanda diciamo perché che fa un pezzo di ferro un pezzo di ferro nell'acqua le insegnanti rispondevano va a fondo e perché allora una nave galleggia nell'acqua ovviamente perché è fatta di ferro ovviamente le le maestre non sapevano rispondere questo perché questo perché lo dice anche lo dice anche il professore perché praticamente sappiamo il risultato di determinate cose ma non sappiamo perché avviene quella cosa sappiamo che due più due fa quattro ma non sappiamo perché quindi io so io so per esempio avendo studiato in fisica che se un oggetto ha densità minore dell'acqua galleggia se ha densità maggiore va a fondo che cos'è la densità sono un po' dei parametri adesso non me lo ricordo però comunque diciamo che a grandi liti lo so perché c'è una differenza andiamo a vedere un attimo ancora più avanti se il legno galleggia o va a fondo e tutte le maestre dicevano il legno galleggia quando gli chiedevo se un pezzo di legno con un foro che passasse da una parte all'altra le pezze di legno andava a fondo o galleggiava l'80% delle maestre gli diceva che il pezzo di legno andava a fondo bene eravamo negli anni 80 da allora la scuola si è degradata ancora di più dalla scuola elementare escono sostanzialmente dei bambini idioti che sono incapaci di ragionare con il loro cervello ma che cominciano ad assumere informazioni dall'esterno dal telefonino che cosa succede? succede che se il soggetto è abituato ad assumere informazioni sempre dall'esterno poi non ne può più fare a meno perché nell'istante in cui il telefonino si spegne o si scarica il bambino va nel panico perché non è più capace di creare autonomamente informazioni all'interno del proprio cervello ciò che ne deriva è che quando si va all'università e si è fatto tutto il percorso sui studi Bell & Alvor no non si chiama evoluzione l'evoluzione è stata l'uomo ha inventato un qualcosa come alzo altoparlanti sanson meter proviamo noi ci troviamo di fronte a soggetti completamente beoti cioè coloro che non sono stati più capaci di emettere una una serie di elettroni tra un neurone e l'altro ok grazie a voi per avermi detto l'evoluzione evoluzione non significa esatto non significa il progresso è diverso l'evoluzione è un salto che fa l'essere umano nell'utilizzare i propri mezzi intellettuali cioè nell'utilizzare l'intelletto non nell'utilizzare la tecnologia cioè la tecnologia no non è uguale la tecnologia il progresso è l'utilizzo di mezzi per facilitare la nostra vita ma non è detto che quel mezzo si utilizzi bene e quindi in modo evoluto cioè è come se tu inventi la è come se tu inventi la ruota ma tu non sai come utilizzarla la usi male io se tu la ruota magari la utilizzi per giocarci invece la ruota può essere utilizzata per spingere un carro per spingere un contenitore di forma rettangolare e diventa un carro capito quindi è diverso non è la stessa cosa l'evoluzione è un cambio genetico è un cambio genetico che facciamo noi guarda l'uomo secondo la teoria darwiniana che no geneticamente non siamo uguali perché ci sono dei salti di evoluzione dell'uomo ovviamente che sta l'uomo erectus eccetera eccetera ma è evoluzione da scimmia a uomo secondo la teoria di darwin quella è evoluzione nei momenti in cui siamo diventati homos sapiens sapiens abbiamo avuto l'evoluzione che noi adesso definiamo massima ma che massima non lo è ma è semplicemente una cosa genetica quindi è diverso quindi ci sono allora il professor Malanga quindi dice che c'è una problematica nella scuola elementare sin dagli anni 80 e cioè c'è un degrado continuo perché perché le insegnanti della le insegnanti delle scuole elementari ok hanno una base di conoscenza più scarsa del passato quindi poi dice poi dice riprendiamo un attimo il discorso ci sono aspetta nel panico perché non è più capace di creare autonomamente informazioni all'interno del proprio cervello ecco ci sono poi altre due due categorie diciamo che la coda l'abbiamo ma geneticamente siccome non ci serve più esatto abbiamo fatto un cambio genetico ci siamo evoluti siccome la coda non ci serve più non l'abbiamo più quello è un cambio genetico e quindi è un'evoluzione allora quindi ci sono le persone che diciamo non sono non sono in grado di sviluppare un proprio pensiero ecco qua devo mettere devo mettere bene allora ok quindi quindi ci sono delle persone che non sono in grado di sviluppare un proprio pensiero perché 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 c'è stato un input un input un input sbagliato metto il segno meno non lo so metto un input sbagliato l'input negativo ok quindi con il tempo con l'avanzare del progresso con l'avanzare appunto del progresso l'uomo ha imparato a conoscere conoscere tutto da info esterne che significa che significa significa che nel momento in cui c'è un input sbagliato che potrebbe essere sbagliato che viene dall'esterno viene ovviamente preso per vero e quindi non si è in grado di sviluppare un proprio pensiero ne abbiamo l'esempio storico dei sofisti e dei filosofi greci ci sono delle scuole che seguono determinati filosofi determinati sofisti e ci sono i filosofi e i sofisti che significa significa che ci sono delle persone che prendono un input esterno e lo fanno proprio ma al tempo stesso non sanno sviluppare non sono in grado di sviluppare un proprio pensiero capito? Ciò che le deriva è che quando si va all'università e si è fatto tutto il percorso di studi poi dico Nalvor tu hai ragione è un tuo punto di vista se per te è importante avere ragione in una chat con 5 persone dove giudichi magari una persona per come la vedi a sensazione per le esperienze per l'input che tu hai avuto cioè tu hai visto una persona uguale a lui fisicamente per come parla che non sapeva abbassare la suoneria e quindi devo chiedere al nipote tu è giusto che tu abbia questa reazione quindi io diciamo che io vabbè non andiamo troppo fuori tema io non credo io non non sono un credente io devo verificare determinate cose nei momenti in cui il professor Malanga mi dice uno scienziato mi dice ci sono determinate tracce in cui sono depositati dei materiali che sulla terra non esistono perché hanno una una percentuale isotopica differente in quel momento dico mi viene qualche dubbio ok mi viene qualche dubbio e ovviamente non escludo nulla non escludo nulla ma neanche credo in tutto noi ci troviamo di fronte a soggetti completamente beoti cioè coloro che non sono stati più capaci di emettere una una serie di elettroni tra un neurone e l'altro persone che non hanno più lo stimolo di guardare all'esterno la realtà perché la realtà gli viene fornita comodamente da un telefonino esatto 24 ore al giorno perché è comodo è comodo c'è una comodità enorme nel ricevere l'informazione già pronta già fatta lì com'è quindi per noi è comodo non ci scomodiamo di andare a studiare no? ovviamente di elaborare un nostro pensiero quindi sta lì che me frega vanno questi ragazzi al gabinetto col telefonino probabilmente fanno anche l'amore guardando il telefonino e respirano perché esiste un telefonino questo è un problema grave perché il telefonino poi quando si diventa grandi viene sostituito da un altro apparecchio che costituisce le immagini l'essere umano è auditivo visivo o cenestesico e soprattutto la quantità di visivi statisticamente è molto più alta rispetto agli auditivi e ai cenestesici ciò vuol dire che la televisione ti fa vedere quello che vuole farti vedere visivo auditivo cenestesico significa che ci sono tre differenti tipi di persone c'è chi come input principale utilizza la vista c'è chi come input principale utilizza l'udito e c'è chi come input principale utilizza le sensazioni il tatto le cose eccola che fai se facce della fa le facce in chat come fai ad informarti no allora il problema non è come faccio ad informarmi il problema è che se prendiamo l'informazione per quella che è e poi la la vomitiamo diciamo così senza essere in grado di sviluppare un proprio pensiero quello è un utilizzo scorretto un utilizzo sbagliato della tecnologia quindi bisogna saperla utilizzare adesso non è che il problema sono i cellulari il problema è che nei momenti in cui la scuola elementare è degradata ci si affida al telefono ci si affida a quello che dice il cellulare perché il cellulare è il mezzo di trasmissione che abbiamo tutti praticamente quindi è più semplice da raggiungere per tutti e quindi l'informazione è più semplice da raggiungere di conseguenza e tu beotamente ci credi questo è il problema per 50 anni siamo stati bombardati da immagini televisive che ci hanno fatto vedere una realtà e una verità che molto probabilmente non era questa ma che comunque noi non avevamo più la capacità attenzione la televisione è ancora peggio perché nella televisione il mainstream tu non decidi il contenuto che vuoi vedere ma lo decide chi ha in mano le reti televisive tu l'informazione puoi prenderla tu l'informazione puoi prenderla dal dal telefonino ma devi anche saperla elaborare cioè quello che tu devi acquisire è la consapevolezza di quello che stai leggendo e devi farti un pensiero critico perché tu sei bombardato di informazioni ma non hai consapevolezza di quello che stai leggendo è come se è come dire ma guarda anche i libri anche i libri sono sono tra virgolette pericolosi perché se un libro non si capisce si interpreta male si commettono si possono commettere degli errori quindi allo stesso modo del libro è il telefonino solo che il telefonino tu decidi il contenuto che guardi e tu decidi se stai se stare da una parte o dall'altra ma tu puoi anche decidere di farti un pensiero critico e quindi di essere alla normalità perché secondo me uscire fuori dal coro è essere alla normalità sono la stessa cosa uscire fuori dal coro significa avere un pensiero critico non significa andare contro un qualcosa no l'istruzione l'istruzione non fa cioè la laurea non fa l'istruzione c'è un problema di consapevolezza è proprio consapevolezza essere consapevoli farsi delle continue domande ok a cui poi ci daremo delle risposte capacità di discernere da quella che era l'immagine esatto non è uguale all'istruzione sì 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 hai qualcuno che ti spiega esatto esatto però quando tu leggi praticamente sul libro sul telefono comunque sia comunque te lo sviluppi questo pensiero critico non è che tu dai per vero quella cosa tu hai un input attenzione tu hai un input un'informazione che ricalca il tuo pensiero magari non hai un'informazione ti faccio un esempio se uno se uno dice io su facebook io su facebook ho letto che la terra è piatta perché c'è scritto su facebook in quel caso ha utilizzato un mezzo in modo errato perché dici ma perché 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 la terra è piatta perché c'è scritto su facebook no non è che l'informazione va presa per quello che è l'informazione va poi elaborata cioè perché c'è scritto su facebook vado a vedere la fonte vado a vedere di che parla è scientifica perché c'è questa spiegazione è una certezza no è una teoria sì sono tutte teorie quindi poi il pensiero critico si fa attraverso l'elaborazione di una o più teorie che non dà una sola conclusione dà più a più conclusioni in base a come a come poi riusciamo a comprendere quella cosa quindi dipende tutto dalla nostra consapevolezza io personalmente credo che il pensiero del professor Malanga sia uno dei pensieri più più obiettivi che ci siano perché comunque è uno che si guarda intorno e le informazioni sa prendere è uno scienziato e come tale è una persona che è abituata a osservare a osservare a capire perché accade una determinata cosa l'immagine vera della mappa del territorio direbbe un programmatore neurolinguista morale della favola il popolo italiano è un popolo che dal mio modesto punto di vista e io potrei sbagliare dal mio modesto punto di vista è un popolo di Beotti è un suo punto di vista e potrebbe anche sbagliare come già dice però secondo il suo punto di vista appunto l'italiano è un popolo di Beotti perché perché l'istruzione elementare non è stata abbastanza non è stata abbastanza di livello per permettere all'adulto di maturare in modo in modo corretto di utilizzare gli strumenti a disposizione in modo corretto e consapevole e già coloro che si sono fatti zombizzare perché se te capisci le cose quella punturina lì non te la fai fare perché capisci chiedi domandi e alla terza domanda vedi che la persona che dovrebbe convincerti a farti la punturina scappa perché non ha le risposte dunque chi sceglie di non farsi il vaccino chi sceglie di non farsi il vaccino lo fa perché non ha abbastanza risposte da chi il vaccino lo ha inventato da chi lo osserva è da chissà a cosa serve vi faccio un esempio vi danno vi danno in mano una bomba vi diamo una bomba voi che fate la prendete in mano subito sta bomba oppure dite ma questa tra cinque giorni potrebbe esplodere no perché è fatta con determinati materiali ma questa da dieci anni potrebbe esplodere non lo sappiamo se ti dicono non lo sappiamo se chi ha costruito quella cosa non sa che effettivamente che effettivamente non è non è integra non può essere integra nel tempo in quel momento io dico allora non la voglio se per me è un pericolo non la voglio adesso poi ci arriveremo più avanti la punturina ce la vogliono fare per forza non possiamo fare non vedremo più avanti non le sa e forse sa di non saperle questo è quello che capitava a me quando io chiedevo scusa ma te perché ti sei vaccinato e questo cominciava a spiegarmi delle cose e alla fine nel giro di tre minuti mi diceva ma perché io seguo la scienza a questo punto io lo interrompevo e gli dicevo scusa la scienza sono io non sei te te sei un laureato in lettere in filosofia io sono laureato in chimica conosco la fisica quantistica so esattamente che cos'è la scienza so che cos'è la biologia e quello che mi stai dicendo è una serie di puttanate che hai visto su Rai 1 ecco qua allora chi è la scienza la scienza è lo scienziato quindi chi segue la scienza è lo scienziato non sono io quindi io nel momento in cui mi porgo dei quesiti e la scienza non sa rispondermi significa che lo scienziato o non segue la scienza o non è in grado di rispondermi perché non sa quella del minacota cosa come funziona andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti poi se commentano da solo quello che scrivete perché poi risponderà a lui a quel punto il soggetto scappava è sempre successo così e forse per questo quindi che su youtube sostanzialmente non ci sono filmati non ci sono interviste non ci sono prodotti di coloro che fermamente fanno la battaglia perché tutti si sia zombizzati io la vedo dal mio punto di vista d'altra parte nei film di fantascienza che cosa si vedeva? che lo zombie cercava coloro che non erano zombizzati e li volevano mordere li volevano attaccare la zombizzatura e quindi il povero non zombizzato che aveva ancora la capacità di connettere scappava si rifiutava si chiudeva in se stesso quindi quindi diciamo che vedete le persone che si sono vaccinate per esempio stanno rincorrendo quelli che chiamano no vax quando in realtà non sono no vax ma sono persone che hanno posto delle domande a cui i detrattori del vaccino anti-covid non hanno saputo rispondere quindi diciamo io se non mi sa se uno scienzi se chi ha prodotto questo questa terapia non sa rispondermi sull'efficacia o meno sulle controindicazioni o meno io in quel momento attendo attendo che ci siano date più risposte esatto non è essere contro il vaccino in se stesso ma essere contro questa terapia sperimentale quindi il tizio non zombie scappava per paura non perché la sveglio però aspetta attenzione la paura quando ti viene quando la paura diciamo ti avvolge quando prende il sopravvento ti fai mordere dagli zombie nel momento in cui la nel momento in cui te hai paura e riconosci che hai paura che fai scappi quindi senza uscire dobbiamo rimanere in casa come sorci esatto quindi te fai parte Arge della categoria numero due quindi praticamente sei costretto fai parte dei costretti a quello che ti dice questo perché meno libertà meno lavoro meno dignità meno diritti ok aspetta che consente il messaggio vedi ti faccio ti faccio un esempio ti faccio un esempio non voglio prenderti in giro non voglio prenderti in giro per niente io capisco che è una è una conseguenza del del degrado della scuola allora praticamente tu hai scritto tu hai scritto per esempio mi spiegate perché sono sempre i scienziati falliti che sono contro il vaccino allora intanto come fai a giudicare i scienziati falliti e poi gli scienziati si dice gli scienziati non i scienziati quindi questa è una forma di italiano scorretta grammaticalmente che è data appunto dal dal degrado della scuola perché non hanno saputo non perché non perché tu sei stupido attenzione ma perché non hanno saputo non hanno saputo insegnarti di come si applicano determinati di come si di come si applica la grammatica quindi questo è un problema per cui tante persone oltre alla grammatica la pensano riescono a pensarla in modo errato senza vaccino non ci faranno più uscire dobbiamo rimanere in casa come solci questa è un'informazione che viene dal di fuori quindi un'informazione che viene che prendi per vero il fatto che Nalvor vuole fare il vaccino va benissimo ognuno è libero di farlo quindi se tu fai il vaccino poi se muoio denuncio che vuol dire vedi questa è un'informazione che tu hai preso un punto di vista di una persona hai detto questa persona è colpevole di quello che faccio io quando invece il tuo pensiero critico ti dovrebbe dire io ascolto quello che dice la persona posso essere d'accordo posso non essere d'accordo nel momento in cui io prendo questa decisione sono in grado di sviluppare un pensiero proprio e faccio quello che mi dice la mia testa il 6 si il 6 se tu Arge sei convinto che bisogna farlo per forza di cose anche se sperimentale sei uno di quelli dettori caricate in quella categoria vabbè tu sei ironico io sto parlando invece seriamente perché comunque è un tema serio poi ovviamente si può anche scherzare eh lo so che mi frega a me che c'è nel vaccino preferisco pensare ad altre cose questo è appunto il problema per cui tante persone purtroppo hanno hanno una vita in cui soffrono perché si soffre perché non si fanno le scelte giuste perché non sappiamo che strada prendere perché non ce ne frega un cazzo io lo so te sei giovane in albor sei giovane e ci sono passato pure io non è che io mi ritengo una persona intelligente non mi ritengo superiore a nessuno ho fatto le mie cazzate continuo a farlo la sto facendo adesso magari la cazzata non lo so io so comunque favorevole alla libertà nel senso una persona si prende le giuste informazioni ed è poi libera di farsi o no il vaccino di rischiare o no la propria vita vediamo vediamo come facciamo se al lavoro ti obbligano a farti o che fai di licenzi nessuno mi può obbligare a farlo nessuno mi può obbligare a farlo ma andiamo avanti alcuni di questi ci hanno perso la vita per esempio il dottor De Donno come mai avrà deciso di suicidarsi in una società come questa perché non voleva essere zombizzato la sua casa era stata ormai circondata dagli zombie e lui ha detto prima di farmi catturare mi tolgo la vita questo è ciò che secondo il mio modestissimo punto di vista De Donno ha pensato però c'è un però ragazzi mi ricordo che ogni punto di vista è opinabile no mi dissocio mi dissocio da ciò che dici lui ha detto nei film nei film di fantascienza accade anche questo alcune volte delle persone per non essere infettate che fanno fanno quello là un gesto estremo perché ma sui film ovviamente lui dice secondo me quella persona ovviamente se non sapete se non conoscete chi era il dottor De Donno non ha inventato niente però è stato uno dei medici che per primi hanno rispolverato un vecchio metodo di cura emergenziale al plasma con il plasma dei pazienti dei pazienti guariti dal covid per guarire gli altri malati di covid quindi ha applicato quando ancora non c'erano chiare non erano chiare delle cure ha applicato questo metodo di cura e ha salvato delle vite ha salvato delle vite con un metodo che costava pochissimo quasi zero perché perché è praticamente fatto con delle donazioni di plasma delle donazioni di sangue io dono il mio sangue io sono una persona è stata ammalata di covid ok è guarita la persona che guarisce dal covid dona il sangue dove viene estratto poi il plasma che serve per curare le altre persone quindi c'è zero produzione dalle case farmaceutiche è una donazione di sangue da parte delle persone quindi è un metodo che non costa nulla quindi è un metodo che non costa nulla andate a vedere approfondire io vi invito sempre a approfondire quello di cui parliamo non credere ciecamente a quello che dico perché potrei sbagliare potrei omettere qualcosa andate a vedere il professor il dottor De Donno che cosa ha fatto durante la pandemia guardate lo zombizzatore capo guarda alla società degli zombie che lui è riuscito a zombizzare e li vuole tranquillizzare lui vuole tranquillizzare gli zombizzati dicendoli non vi preoccupate se gli altri non si sono ancora zombizzati perché perché se non si zombizzano moriranno nel dire questo lui vede negli altri ciò che succederà a se stesso e non capisce che il problema della morte è un problema filosofico molto più grande qui non si tratta di vita o di morte biologica qui si tratta di vita o di morte mentale coloro che si sono zombizzati lo hanno fatto per i due o tre motivi che dicevo prima non devono essere condannati perché sono cari ho doppia cuffia se vuoi venire eh eh ma prendi una sedia non ti va non capisco cosa ci guadagna il governo con te che fai il vaccino non mi viene da dire che è per controllarci andiamo avanti sentiamo il punto di vista del professor Malanga facciamo attenzione a seguire i soldi seguite seguite i soldi allora il vaccino viene acquistato dal governo viene acquistato da una causa una causa farmaceutica la causa farmaceutica ha eh guadagna ovviamente sulle azioni sulle vendite ha un profitto seguite i soldi c'è un libro interessante un libro interessante di eh un attimo che lo controllo di chi è questo libro perché non me lo ricordo un attimo eh allora il libro è di Tiziano Alterio e si chiama il dio vaccino il più grande e oscuro business del ventunesimo secolo ehm chi è Tiziano Alterio Tiziano Alterio è eh una giornalista di inchiesta i giornalisti di inchiesta sono le persone che mh fanno giornalismo eh indagando su alcune cose quindi leggendo quel libro eh riuscirete a scoprire questi soldi eh dei vaccini eh dove vanno a finire perché eh attraverso l'inchiesta ehm è riuscita la scrittrice e la giornalista è riuscita a eh trovare i collegamenti eh tra chi finanzia eh le case farmaceutiche e chi finanzia gli enti che devono controllare eh che dovrebbero controllare i prodotti usciti dalle case farmaceutiche eccetera eccetera quindi andiamo avanti eh non voglio uscire troppo off topic caduti nella macchina della zombizzatura eh però sono loro che sono morti ma no fisicamente quello succederà fra qualche anno quando si accorgeranno che quello che gli hanno messo nel corpo non era proprio acqua distillata la loro morte è una morte cerebrale loro decidendo di fare ciò che chi comanda aveva deciso hanno deciso di mettere nelle mani dello zombizzatore capo la loro vita la loro capacità di risolvere dei problemi la loro eh eh incapacità di prendere sulle loro spalle la responsabilità della loro vita hanno deciso eh il padrone mi ha detto di fare così e io faccio come dice lui in quell'istante hai ceduto a chi comanda la tua volontà hai ceduto a chi comanda la tua libertà hai ceduto a chi comanda la tua parte animica mai più mai più allora cosa ci importa eh cosa ci importa se si sono pappati i soldi allora i i soldi denaro il denaro dipende come eh si guadagna cioè chi se lo guadagna attraverso il lavoro qual è il lavoro il lavoro cioè il carabiniere carabiniere per esempio no poliziotto uguale i medici i medici di corsia ehm che poi fatto di persone che i carabinieri poliziotti possono essere corrotti che i medici possono essere bravi o non bravi quello è un però ci sono dei mestieri quindi il denaro si eh si guadagna con dei mestieri non c'è un profitto qua ok nel momento in cui c'è un profitto questa cosa conviene convenienza convenienza perché i soldi se ce l'ha se ce l'hai tu o se ce l'hanno altri chi è che comanda comandi tu puoi comprarti le cose da mangiare no questi altri si quindi dove vanno i soldi dove vanno più soldi vanno dove sta il profitto vanno di meno dove sta il lavoro ma attenzione che questo profitto se è una cosa di convenienza la convenienza non è detto che un prodotto conveniente sia anche etico e quindi che sia fatto per il nostro bene non è detto allora qui se il prodotto etico deve rispondere a dei a dei criteri deve essere etico se non fa del male a qualcuno se non porta danni gravi a qualcuno se non porta piccole problematiche sappiamo che il vaccino è uno strumento etico non lo sappiamo nessuno lo sa perché per quale motivo perché è in fase sperimentale gli effetti coloreterali a lungo termine come a breve termine come gli effetti coloreterali nel momento in cui diciamo assumiamo altri farmaci non sono certi quindi non c'è certezza se non c'è certezza non abbiamo certezza che il prodotto sia etico ma è comunque conveniente per chi per te no perché c'è il profitto tu non hai il profitto tu sei un lavoratore il profitto sono quelle persone che attraverso la produzione di un prodotto attraverso la quotazione in borsa la quotazione in borsa di un prodotto di una casa farmaceutica o di qualunque sia qualunque cosa in quel momento c'è un un interesse e le persone che hanno degli interessi siccome come il carabiniere e il medico che possono avere durante il loro lavoro degli interessi e quindi possono essere corrotti per interessi personali allo stesso modo allo stesso modo il piccolo lavoratore che per i suoi interessi personali diventa corrotto allo stesso modo può essere anche la grande casa produttrice di carne allevamenti intensivi profitto quindi io devo produrre più carne azione venderla di più per proporla di più vendere di più fare più profitto azione in borsa più vendite c'è una convenienza come lo faccio lo sto facendo bene in modo etico non lo so che do alle bestie dei prodotti che in realtà non fanno bene né alla bestia e né a lungo termine a chi ne usufruisce quindi a te ecco qual è il problema ecco perché ci dobbiamo preoccupare di seguire il denaro a volte perché oggi viviamo in un'epoca in cui regna il neoliberismo e cioè tutto è basato sui mercati per esempio per esempio perché adesso andiamo molto off topic perché le grandi multinazionali che hanno un grosso profitto pagano poche se non nulle tasse allo stato perché nel momento in cui questa società che si chiama società più ricca del mondo deve pagare le tasse a un paese gli dice no caro mio se tu mi fai pagare le tasse io non investo nel tuo paese il tuo paese non avrà più un'economia perché l'economia cioè l'economia viene basata sulla finanza non investo sulla finanza per cui c'è poco entrato c'è poco profitto anche alle casse dello stato per cui ci sono meno posti di lavoro e poi le tasse chi le deve pagare noi ovviamente noi che allo stesso modo chiediamo a queste società di di fornirci i loro materiali l'investimento no l'investimento non è una tassa perché la tassa è un è un costo per far sì che il servizio pubblico pubblico funzioni e cioè i mezzi pubblici la gestione dell'acqua la gestione della corrente la gestione di tutti i servizi pubblici gli impiegati pubblici che ti permettono di vivere in una nazione che dove tu usufruisci di cose gratis la sanità la sanità pubblica quindi il guadagnare con l'investimento chi guadagna è soltanto la società non è lo stato lo stato semmai non perde non perde l'investitore quindi non perde posti di lavoro posti di lavoro che servono alle persone per lavorare e far girare l'economia capito quindi l'economia è basata molto su una finanza nel pensiero neoliberista in cui viviamo oggi quindi andiamo avanti perché è troppo off topic secondo il mio modestissimo punto di vista mai più loro riprenderanno la loro parte animica mai più essi saranno in grado di difendere i loro diritti perché non li hanno difesi quando serviva hanno solo ubbidito servilmente certo c'era chi non sapeva c'è chi non si è informato male ti doveri informare esatto e chi è praticamente l'ignorante l'ignorante che purtroppo affidandosi al capo zombie che ha detto tu ti devi vaccinare perché non capisci un cazzo perché purtroppo non capisci nulla di scienza te lo dico io che assicuro quello che devi fare esegue esegue senza esitare ti doveri informare purtroppo per te ti doveri informare poi questo non serve il problema è così la vita è fatta così c'è chi riesce a sopravvivere e c'è chi per qualche motivo leone gazzella sardina squalo fra qualche anno vedremo di questo teatro che cosa rimane e voglio dire un'altra cosa sostanzialmente come ci si deve comportare secondo me di fronte a una situazione del genere io lo dico da parte di uno che vede il mondo di zombizzati ma lui non è zombizzato e non si vuol far zombizzare scusate abbiate pazienza questa è la mia idea voi non la condividerete ma questa è la mia idea allora cosa vedo? vedo una marea di gente che da una parte sta zitta non dice niente non reclama io sono no non è superiore è diverso la superiorità di una persona non esiste esiste un grado di consapevolezza differente quindi il grado di consapevolezza adesso andiamo avanti perché lo dice lui sono stato zombizzato perché volevo esserlo non c'è non ci sono dove sono? invece dall'altra parte vedi una marea di persone che almeno un terzo degli italiani è piuttosto incazzato e mi chiedo come mai ciò accade perché gli altri non fanno delle altre manifestazioni per difendere le loro idee no solo una parte difende le proprie idee gli altri stanno zitti e non è strano è inquietante questa cosa allora nei momenti in cui una persona è consapevole che una cosa può essere un pericolo la persona sta lontana da quella cosa nei momenti in cui una persona non è consapevole di essere in pericolo fa quella cosa lo stesso perché glielo dice qualcun altro perché crede in quello che dice quella persona senza avere le informazioni senza l'elaborazione delle informazioni da parte del proprio cervello nel momento in cui uno sceglie di essere zombificato è un problema suo quindi non esiste che lo zombificato è stupido nei confronti di un'altra persona ha un grado di consapevolezza differente che lo porta a una fine differente c'è chi si potrebbe ammalare oggi c'è chi si potrebbe ammalare domani c'è chi si potrebbe non ammalare dipende dipende dalla scelta che ha fatto però nel senso se uno non ha consapevolezza e si affida soltanto al sentito dire da altre persone in quel momento e non ha un pensiero critici in quel momento è zombificato perché gli zombie vanno non hanno ragionamento i zombie seguono fame e quindi che fanno uccidono gli altri esseri umani che sono vivi per sopravvivere ma sono già morti gli zombie sono già morti questo non lo sanno allora ripeto non non è da mettere non è da mettere in relazione il vaccino sperimentale anti covid con il vaccino contro la varicella il vaccino contro la varicella è stato praticamente fatto pochi anni fa perché io la varicella non mi sono fatto il vaccino perché ero piccolo e non c'era e e mi sono fatto la varicella non sono morto mia sorella si è fatta la varicella non è morta mia madre si è fatta la varicella da adulta era più pericoloso anche perché da adulti è più pericoloso tutto a posto non c'era il vaccino ok ma è diverso è diverso il vaccino anti covid con quello anti antivaiolo o contro le malattie infettive attenzione ma non sappiamo ancora gli effetti a lungo termine perché sono stati introdotti da pochi anni i vaccini obbligatori per i bambini contro le malattie infettive però questo è un off topic parliamo del vaccino anti covid che è una tecnologia diciamo nel campo della medicina che non è stata mai utilizzata fino adesso è nuova non è stata mai sperimentata e si sta sperimentando adesso è stata diciamo autorizzata l'ambiente è tutto eccezionale e quindi non sappiamo non sanno gli effetti a lungo termine e a medio termine a breve termine si stanno raccogliendo adesso le informazioni quindi pensate c'è una farmacovigilanza passiva cioè nel senso che le case farmaceutiche vabbè insomma i produttori di questi vaccini registrano gli effetti avversi e poi aggiornano piano piano il bugiardino e però dal primo giorno che è uscito il vaccino anticovid il bugiardino sugli effetti avversi era quasi vuoto non si sapeva niente adesso qualcosa incomincia da poco da pochi giorni da qualche settimana addirittura è stato aggiornato quello della pfizer dove è stata inserita anche il rischio di miocardite per i bambini quindi pensate adesso sono state inserite gli effetti a breve termine figuriamoci quelli a lungo termine non saranno inseriti prima di dieci anni sicuramente poi vediamo chi si oppone alla zombizzatura decide secondo me erroneamente di farlo in un modo inefficace cioè c'è il potere che decide che tutti debbano essere zombizzati noi andremo contro il potere perché noi siamo l'opposizione ecco nel dire noi siamo l'opposizione secondo me si sono fregati con le loro stesse mani perché bisogna capire una cosa fondamentale l'opposizione fa parte del sistema il sistema vive perché esiste l'opposizione il sistema non sarebbe più vivente se l'opposizione non ci fosse ecco questa è una cosa importante quindi quello che sto facendo anch'io con i miei profili facebook e twitter è una cosa sbagliata io sto facendo diciamo a livello a livello intellettuale io non sono uno che scende in piazza perché comunque non sono mai sceso in piazza non sono uno che fisicamente si mette in mezzo fisicamente io sono una persona che più che altro utilizza l'intelletto io penso penso molto perché perché prima di fare determinate cose bisogna pensare ecco forse lo sbaglio è proprio quello di mettersi contro chi comanda come dice lui appunto questa cosa per esempio non l'avevo presa in considerazione perché lui dice nei momenti in cui c'è un'opposizione l'opposizione alimenta il governo ok e quindi è il modo sbagliato lui dice che è il modo sbagliato tra virgolette urlare scendere nelle piazze fare il diavolo a quattro per queste cose perché tu alimenti l'idea di governo errata cioè quella contraria a come andrebbero andrebbero più normalmente gestite le cose per me non è il vaccino che gli zombizzano sono già prima io lo dico sempre che vedo zombi ovunque a prescindere esatto non è il vaccino che zombizza le persone il zombizzare le persone significa che le persone appunto come abbiamo visto qua non hanno più il non hanno più la padronanza della propria testa non sono in grado di sviluppare un pensiero proprio quindi qua già si è zombizzati nei momenti in cui non decidiamo di fare il vaccino nei momenti in cui non sappiamo a cosa andiamo incontro perché non abbiamo abbastanza basi perché purtroppo non abbiamo abbastanza consapevolezza quando incontro una persona con le proprie documentazioni faccio un sospito di sollievo esatto perché veramente è difficile cioè vedi persone io infatti anche per questo motivo non riesco ad andare nelle piazze perché perché in mezzo a quelle piazze io vedo comunque delle persone che sono tra virgolette zombizzate pure nella protesta perché perché loro non hanno delle argomentazioni valide come dicevo all'inizio hanno delle argomentazioni un po' campate all'aria per cui io sinceramente non riesco a stare in mezzo delle persone che hanno delle argomentazioni campate all'aria semplicemente se chi ha prodotto un determinato un determinata cosa che a me dice che fa bene e fa bene anche agli altri risponde con un'affermazione contraria o non risponde in quel caso se la cosa non è tangibile non è certa io decido di non farlo perché ho il mio pensiero critico quindi è questa secondo me la cosa che va fatta prima un esame di ciò di cui possiamo conoscere ciò che possiamo conoscere se non possiamo conoscere ci dobbiamo comunque affidare al primo che arriva perché se ti dicono domani beviti il petrolio per curarti questa come guardiamo l'esempio degli americani arriva Donald Trump e dice agli americani che la cosa la cosa migliore sarebbe siccome il covid l'alcol allora gli americani si sono iniettati tipo parecchina candeggina le vene e sono morti cioè pensate questo qui è appunto un'invalidità cioè nel senso questo è essere zombificati non è il vaccino stesso è un'illusione che ognuno apre la propria idea però esatto ma poi non sanno nemmeno perché non sanno nemmeno perché non è stupidità è un grado di consapevolezza differente perché ognuno può dire che è stupido in qualsiasi modo cioè come dirà più avanti il professore non esiste la dualità cioè la dualità è solo la nostra illusione non esiste lo stupido dell'intelligente il fatto della stupidità è soltanto un'illusione cioè il fatto di una persona ha una consapevolezza differente di un'altra che poi lo porta a fare determinate scelte che ricadono su se stesso e purtroppo anche sugli altri alcune volte è strano guardate quando ci sono le elezioni politiche in televisione il partito che sa che perderà l'IQ non significa niente il qualsiasi intellettivo sai perché? perché sono dei test fatti da altre persone che hanno per carità studiato i comportamenti non lo so in qualche modo però non sai come hanno costruito questi test e non sai perché la persona che ha un qualsiasi intellettivo di tot è più intelligente di un'altra ok magari chi ha un qualsiasi intellettivo minore saprà comportarsi in una situazione in modo migliore di un'altra che ha un qualsiasi intellettivo maggiore ti faccio un esempio se io ho un qualsiasi intellettivo io ho fatto il test è risultato 111 numero del qualsiasi intellettivo quindi il qualsiasi intellettivo 111 che era aspetta il punteggio non mi ricordo cui punteggio sopra il normale ok dotato sono una persona dotata quindi se sono una persona dotata proprio appena dotata infatti infatti è proprio gli stessi risultati che hai a scuola io a scuola sono uscito con 70 su 100 ovviamente 7 io il dotato è tra i 110 e i 126 io sono risultato 111 che poi diciamo che poi quel test l'ho fatto pure un po' defetta le ultime domande perché c'avevo da fa quindi non è che mi sono messo là ho perso tempo alcune domande le ho messe a caso senza ragionarci quindi potrei avere qualche punto in meno qualche punto in più non lo so comunque questo risultato però questo non significa che io sono più intelligente di altri quindi hai 120 come hai fatto 120 vabbè comunque quindi pure te sei dotato allora pure te sei dotato fino a 100 sei dotato non ho capito perché perché che cosa vuol dire 80 perché dici 80 cioè numeri a caso cioè proprio basta esiste gente che prende meno di 100 certo certo perché tu comunque come lo applichi quel come come gli fai quei test cioè secondo quale logica ecco per esempio io ho trovato delle logiche ho trovato delle logiche ma una persona ha un'altra logica per risolvere quelle cose no per risolvere quei test quindi è tutto da vedere cioè secondo me non è indicativo secondo me non è indicativo la revisione dicendo andate a votare andate in tanti a votare non importa se votate per me siamo in democrazia basta che votiate perché perché se voi votate per la controparte in qualche modo state alimentando la controparte ma state alimentando anche quella parte della controparte che si chiama opposizione e l'opposizione continuerà ancora ad esistere a prendere i soldi di uno stipendio immeritato solo perché voi avete inconsapevolmente votato per gli altri qual è la soluzione? la soluzione pensate che sia che ne so un paragone che vuole uscire dall'Europa sì bello meraviglioso eccezionale fa dei discorsi interessanti la Sara non un paragone cioè nel senso che uno paragona una cosa paragone è Gianluigi Paragone l'ex giornalista che adesso è attivista e ha fondato il partito Italia Exit per l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea che secondo il suo punto di vista di Malanga fa dei discorsi interessanti anche secondo il mio punto di vista fa dei discorsi sensati interessanti ma fa l'opposizione proprio molto comunque vi consiglio di andare a vedere perché di solito poi anche se non vi interessa io penso che la cosa migliore sia sentire la campana sia dell'uno che dell'altro perché vi permette di posizionarvi su un'idea e quell'idea poi ovviamente vi permette di evitare l'idea che non vi sta genio quindi è come per dire per battere il nemico bisogna conoscerlo quindi è meglio anche conoscere le idee diverse alle vostre con cui non siete in accordo io per esempio ho letto un libro sul futurismo sul futurismo e l'arte del futurismo dove in quel tempo praticamente c'era una concezione del sesso della sessualità del sesso delle donne degli uomini molto differente contrario a ciò che penso io quindi comunque è sempre stata un un informarmi su ciò con cui non sono d'accordo e mi ha permesso di confermare che non sono d'accordo con quell'idea perché c'è di sbagliato questo 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 e questo andiamo avanti Cugnial che fa una battaglia personale Sara Cugnial è una parlamentare ovviamente ex 5 stelle se non sbaglio è veramente una parlamentare con le palle oppure oppure i canali che si oppongono allo stato de facto non so penso a Mazzucco a Border Night a TV Italia a la TV del Sole sì ma penso a quel numero ormai incredibile migliaia di avvocati che fanno delle regole e delle leggi che stabiliscono in realtà dei canoni di procedura per andare contro il governo ma come si può pensare di riportare la libertà tra virgolette lo dico la libertà in un paese che la libertà non l'ha mai avuta utilizzando dei canoni repressivi ecco attenzione lui dice lo sottolinea noi viviamo in un paese dove la libertà non l'abbiamo mai veramente avuta è stata soltanto la nostra libertà il nostro essere è solo un'illusione in realtà in Italia non c'è mai stato perché l'Italia è uno dei paesi più corrotti poi vi spiega perché ovviamente cioè mi spiego meglio ma se la legge qualunque essa sia è in mano a chi comanda nessuno può utilizzare la legge per rovesciare chi comanda perché chi comanda interpreterà sempre la legge a modo suo quindi tutte le operazioni che io sto vedendo in giro non serviranno a granché sì il potere sarà infastidito cioè uno che si fa fare una multa perché sta senza mascherino o perché viola il coprifuoco può fare ricorso a un giudice il giudice accetta perché il giudice è indipendente magari però ci sono delle leggi che lo Stato i dpcm per esempio che sono fatte appunto dallo Stato quindi come si può fare lui dice delle misure delle contromisure allo stesso modo repressive per combattere una misura repressiva cioè c'è uno scontro che a volte alimenta tende ad alimentare anche chi ha fatto quelle leggi per farle più restrittive allo stesso modo no? anzi io ti do un motivo per migliorare la legge che tu hai fatto quindi questa legge infastidisce il governo perché? perché quella legge che infastidisce il governo c'è una falla che fa il governo ovviamente copre quella falla semplice molto semplice da queste cose ma non succederà e infatti non succede niente e allora come possiamo fare? i non zombizzati devono per forza essere in qualche modo in futuro preda della punturina che probabilmente li renderà idioti per tutta la vita contro la loro volontà beh c'è una bella notizia non sono certezze sono tutte domande punti interrogativi ovviamente c'è una bella notizia c'è una bella notizia la bella notizia è che non è una notizia politica non è una notizia di partito perché i partiti ora non servono più forse qualcuno pensa ancora che si possa creare un nuovo partito che ne so un nuovo sei stelle che vada al governo e la storia ti lo insegna il partito più bravo più bello che c'è va al governo e diventa corrotto abbiamo visto il Movimento 5 Stelle da partito che nasce diciamo da movimento che nasce di raccolta di richieste dal popolo di votazione del popolo poi è entrato al governo è stato corrotto ha fatto scelte poi che erano ovviamente non rappresentavano più la maggioranza del popolo degli iscritti perché alla fine risulta diciamo sono rappresentanti degli iscritti che poi non tutti gli iscritti votano attraverso quella piattaforma e io ci sono rimasto molto male ecco per questo mi sono staccato mi sono staccato dal Movimento 5 Stelle perché una volta mi arrivò una newsletter una una newsletter firmata da Beppe Grillo dove mi diceva praticamente su riguardo una votazione mi auguro che tu voti in questa maniera cioè nel senso Beppe Grillo diceva io sono il capo del partito il garante il capo e mi aspetto che tu la pensi come me no perché perché io ho un pensiero critico io non la penso come te io infatti non la pensavo come lui per questo motivo sono uscito poi da queste dinamiche del Movimento 5 Stelle non mi interessa più niente e va bene puoi pensare quello che vuoi cioè la differenza è che lui parla di idee di fatti tu parli di lui cioè c'è c'è un un detto non mi ricordo di chi è che si dice le persone stupide parlano dagli altri le persone normali parlano delle non mi ricordo come erano aspetta aspetta c'è una perla psicologica allora eccolo qua Eleanor Roosevelt questa frase è di Eleanor Roosevelt grandi menti parlano di idee menti mediocri parlano di fatti menti piccole parlano di persone secondo il suo punto di vista l'italiano è un popolo di Beoti tu puoi dire io non sono Beota basta stop un punto di vista tuo nel giro di pochi mesi anche io sono italiano però io non dico lui mi sta dicendo che sono italiano e quindi sono Beota non mi sta dicendo Beota l'importante tra l'essere e il credere di essere c'è la differenza è come per dire c'hai la coda di paglia cioè nel senso tu ti senti tu ti senti colpito dalle parole sue di conseguenza reagisci contro di lui insultandolo quindi significa che ha funzionato significa che è vera questa cosa nel momento in cui una cosa non tange significa che sei distaccato te lo metti dalle cose andiamo avanti senza nessun problema non è che lo dico io lo dice la storia eh teniamo conto della storia perché essere zombificato non significa essere stupido l'ho spiegato prima non significa che tu sei stupido e gli altri sono più intelligenti essere zombificato significa che non hai totalmente il controllo di se stesso perché oppure lo hai e hai fatto una determinata scelta e non guardarci indietro per imparare che cosa non è un giudizio è un'opinione come opinione è opinabile cioè è un suo punto di vista ed è opinabile cioè qualsiasi cosa è opinabile possiamo costruire per il nostro futuro non è quindi il creato esatto è anche la tua è anche la tua è opinabile infatti anche la tua fare un nuovo movimento un nuovo partito che porterà la libertà in un posto in Italia dove non c'è mai stata non è questo guarda i filmati su youtube delle persone che si lamentano ci hanno rubato la libertà vogliamo la libertà vogliamo tornare a essere liberi questi non hanno capito niente la libertà non l'hanno mai avuta solo che non se ne sono mai accorti allora prima di chiedere la libertà te fatti dentro di te un'acquisizione di consapevolezza e di coscienza ma non siamo mai stati italiani liberi e la risposta sarà no non lo siamo mai stati ma siccome eravamo cerebrolesi non ce ne siamo mai accorti lo stato italiano è fondato sulle pietre della massoneria come potete pretendere che la massoneria crei una libertà in uno stato come questo abbiamo avuto presidenti della repubblica massoni abbiamo primi ministri che sono legati alla massoneria come è possibile ancora dopo tanti anni credere a questa follia capite com'è cioè ho capito celebrolesi significa che celebramente uno è leso significa che non funzionano bene è una cosa scientifica è una cosa come si dice no biologica è una cosa cioè non funziona il cervello no non funziona il cervello non funziona il cervello non so accorgermi di una determinata cosa perché non funziona bene la libertà la libertà di che la libertà non c'è non c'è mai stata e per esempio te lo dimostro in 4 milionesimi di secondo la libertà vuol dire che noi possiamo fare ciò che vogliamo quindi la democrazia prevede che ci sia libertà democrazia vuol dire potere del popolo bene il popolo vuole la tav vuole il treno a grande velocità no il popolo non lo vuole e allora che cosa fa e lo stato lo prende a manganellate ma ti pare che questa sia la libertà oggi qualcuno non si vuole zombizzare e lo stato cosa fa ti vuole zombizzare lo stesso ti vuole convincere che bisogna zombizzarsi e fa di tutto per farlo ricattando quelle persone che hanno un'attività per esempio commerciale che se non si zombizzano moriranno di fame si purtroppo purtroppo vabbè come ha detto prima appunto pure malanga il fatto è che eccolo qua come si suddivide la società cioè non è detto che siano è i due terzi dell'Italia in questo momento perché dice i due terzi perché lui ha osservato che praticamente ci sono tre tipi di persone c'è l'ignorante che non sa pesare non sa vedere ciò a cui si sta affidando però ci si affida comunque scusate ci si affida perché appunto non sa poi c'è chi è costretto purtroppo quindi diciamo diciamo che come dice lui c'è chi viene minacciato di di non farlo lavorare più di non avere più la libertà quindi la dignità quindi i diritti e quindi è costretto quindi da una parte questi qua purtroppo non li metto tra quelli che sono zombizzati nel senso che so persone che non hanno consapevolezza hanno consapevolezza ma purtroppo danno molto peso alla sopravvivenza sì lui si mette nella categoria non zombizzati non zombizzati perché ovviamente non si vuole far indiettare un vaccino non è superiore no non è superiore non è zombizzato lui si reputa una persona che siccome ha fatto una scelta di non non è ignorante non è ignorante non è non si sente costretto non vuole essere costretto e non è neanche convinto per cui non è zombizzato non vuole essere zombizzato no lui dice il celebro leso è colui che non si accorge è purtroppo l'ignorante allora chi è chi è il pazzo pure il pazzo per esempio il pazzo è una persona che ha una componente sola che funziona e cioè può essere la componente della realtà oppure della fantasia per dirla in modo semplice il pazzo può stare da una parte sola e cioè c'è quel pazzo che per esempio nella finzione sa di essere Napoleone no ma a me mi stimola sta cosa capito mi piace quindi vai tranquillo vai tranquillo quindi qua il pazzo ovviamente c'è chi pensa di essere Napoleone e quindi ovviamente è pazzo è cerebro leso è cerebro leso perché non sa non ha consapevolezza non può non ha il mezzo necessario per aver consapevolezza ha una lesione a livello biologico no ovviamente anche quello lì che sta fisso sulla realtà cioè avete visto magari ci sono delle persone che sono fissate con la matematica ma che comunque se metti nella vita reale non sanno vivere ecco questo qui pure allo stesso modo è un pazzo cioè i pazzi sono quelli che hanno solo una parte del cervello attiva che purtroppo non riescono a utilizzare l'intero potenziale per sviluppare l'interletto quindi c'è l'ebrolese ovviamente purtroppo che potrebbe essere anche l'ignorante se uno non sa sviluppare anche perché l'ignorante per esempio non l'ha non l'ha allenata non l'ha sviluppata l'opportunità ce l'ha avuta però non l'ha fatto problemi suoi non è non è non è che è stupido in confronto a quello è più ignorante perché non si è posto il problema quindi lui lui la problematica se la prende se la prende lui non è stupido lui si prende la propria problematica perché ha la propria consapevolezza quindi non esiste come ognuno ha la propria consapevolezza si prende la propria problematica chi è contrario per esempio al vaccino allora cioè chi è il contrario al vaccino il negazionista allo stesso modo che dice che tutto questo è una montatura non esiste nulla a suo rischio e pericolo a suo rischio e pericolo allo stesso modo è cerebroleso perché non vuole vedere le evidenze e quindi non si sente sapendo che comunque esiste e si pone il problema ovviamente andrà a sfidare la sorte e quindi potrebbe ammalarsi ok ammalarsi e morire come chi non fa il vaccino perché è un estremista appunto allo stesso modo c'è chi ha libera scelta chi se lo vuole fare e chi no quella è la faccia di un non zabbificato non c'è il resto che siamo tutti pezzettini di un'unica cosa perciò se gli altri sono tra virgolette stupidi è anche colpa sua esatto esatto basta condividere non c'è da cioè nel senso se io condivido se io condivido questo video che lui ha pubblicato se io sto facendo questo lavoretto qua è perché voglio vivere in una società migliore lo faccio per il mio interesse perché se io contribuisco in piccolo modo in grande modo a tentare di creare una società migliore io cerco di sviluppare un pensiero critico non un pensiero certo io posso dire la mia idea ma io sto cercando di fare un pensiero critico nel momento in cui vivo in una società che ha un pensiero critico che non impone le cose che non si fa imporre le cose e che non si affida ciecamente a tutte le persone io in questo modo io in questo modo faccio un'operazione di miglioramento tentativo di miglioramento della società dove io vivo insieme a voi dove io voi vivete praticamente ci diciamo ci tuteliamo a vicenda non come dicono in modo errato del vaccino che chi si fa il vaccino tutela anche gli altri non è vero questa è una cazzata e l'hanno dimostrato scientificamente chi si fa il vaccino può contagiare chi ha fatto il vaccino può contagiare chi non l'ha fatto e chi non l'ha fatto può contagiare un vaccinato un vaccinato si può ammalare non ci sono non ci sono non sono conosciute le conto l'indicazione a lungo termine quindi è tutta una cazzata per come parla non ispira fiducia a sto tipo anzi allora tu calcola che il mio pensiero il mio pensiero deriva anche anche merito al professor Malanga io ho seguito molto il professor Malanga a quadri di me ho tanti libri del professor Malanga e quello che io penso oggi il mio pensiero il mio pensiero critico lo devo anche a lui perché lui è stata la persona che ha inventato tra virgolette una metodologia che io ho seguito che è riuscito in qualche modo a risvegliarmi sì poteva anche venire qua lol poteva anche venire qua però non c'è spazio non voleva sedersi vicino a me comunque io vorrei 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 anche farvi vedere il mio bonzare perché è carino adesso mi sto dedicando anche alle piante mi piace il verde ultimamente vabbè queste sono cose per sé andiamo avanti se no qua favo tardissimo ti pare questa la libertà potrei fare miliardi di altri esempi che voi potreste trovare nello svolgimento della vostra vita quotidiana ma allora come si fa come si esce da qui un partito nuovo non lo possiamo fare perché nel giro di cinque secondi diventerà un partito vecchio un movimento nuovo un giro tondino attorno al palazzo del governo stai parlando con degli zombizzati stai parlando a e con degli zombizzati che non capiranno neanche quello che tu stai dicendo e allora che cosa si può fare e la bella notizia finalmente c'è la bella notizia è che l'universo è fatto attenzione questa questa qui è questa qui è una notizia che ovviamente va capita va compresa io che ho seguito appunto i suoi studi l'ho compresa e quindi e quindi bisogna ascoltarla saperla ascoltare e capirla quello che dice è fatto in un certo modo l'universo è fatto in un certo modo secondo le leggi della fisica l'universo è fatto in un certo modo è una delle cose fondamentali dell'universo che è inderogabile indimostrabile ed è così è il secondo principio della termodinamica secondo principio della termodinamica che dice l'entropia dell'universo aumenta sempre l'entropia è una misura dell'ordine del disordine della simmetria dell'universo ed è una misura della coscienza umana cioè tu non puoi tornare stupido se ora hai capito qualcosa non solo ma la tua comprensione tenderà ad aumentare sempre nell'istante in cui io dico questo è chiaro che da qui al nostro futuro non so quando spero presto ma ho qualche dubbio tutte le persone che si sono zobizzate o diventeranno misteriosamente intelligenti subito e capiranno che cosa hanno fatto oppure scompariranno dalla faccia della terra ecco quindi qui dice tanto alla fine l'universo il suo equilibrio lo trova sempre sempre perché lo dice il secondo principio della termodinamica e cioè che l'entropia e quindi il disordine o l'ordine in modo in cui lo vediamo lui dice che la chiesa lo chiama ordine e cioè che l'universo si mette in ordine invece in fisica disordine secondo il suo punto di vista praticamente aumenta sempre quindi aumentando non può c'entra la termodinamica perché l'universo funziona così nel momento in cui l'universo guarda la storia se tu guardi la storia funziona sempre così la storia si ripete nel momento in cui viene fatto un tentativo di diciamo creare disordine tra virgolette anni 40 prima e seconda guerra mondiale l'universo ha fatto sì che si rimettesse un po' di ordine poi è arrivato col tempo dopo un po' di ordine è arrivato col tempo un altro fattore che secondo me dal punto di vista lo vedo come il neoliberismo il periodo in cui viviamo adesso fatto basato sul profitto sulla finanza e sul denaro eccetera eccetera però andiamo avanti principio della termodinamica no termodinamica che parla della temperatura che stai dicendo secondo principio della termodinamica secondo principio della termodinamica il principio della termodinamica secondo il quale molti eventi termodinamici come esempio il passaggio di calore da un corpo caldo a un corpo freddo il passaggio di calore sono irreversibili a differenza di altre leggi fisico la legge di gravitazione universale il secondo principio fondamentale è legato alla freccia del tempo quindi quindi non è non parla di di temperatura cioè lo sto andando a vedere lo sto dicendo non parla di temperatura questo principio della termodinamica parla come ad esempio il passaggio di calore da un corpo all'altro è irreversibile cioè praticamente dice che il secondo principio della termodinamica dice che quando avviene un qualcosa è una cosa irreversibile no allora parla di irreversibilità termodinamica dobbiamo fare etimologia delle parole? termodinamica allora aspetta allora qui stanno no qui sono troppo informazioni tecniche che non capisco quindi troppe cose scientifiche troppe cose fisiche che non capisco due sistemi a contatto cioè praticamente praticamente si parla di si parla di tempo di cose imprescindibili e cioè ecco il secondo principio della termodinamica possiede diverse formulazioni equivalenti delle quali una si fonda sull'introduzione di una funzione di stato l'entropia è in meccanica quantistica una grandezza che viene interpretata come una misura del disordine presente in un sistema fisico qualsiasi incluso come caso limite dell'universo viene generalmente rappresentata l'etresa insieme a me in questo caso il secondo principio asserisce che l'entropia di un sistema isolato lontano dall'equilibrio termico quindi ecco non si parla di temperatura è una cosa differente è una cosa differente sì va bene ma allora l'entropia questo parla dell'entropia è una misura l'entropia del sistema isolato lontano dall'equilibrio tende ad aumentare nel tempo finché l'equilibrio non è raggiunto ok quindi in meccanica statica classica e quantistica si definisce l'entropia a partire dal volume nello spazio delle fasi occupato dal sistema in maniera da soddisfare automaticamente per costruzione il secondo principio vabbè quindi si fonda sull'introduzione della funzione di stato l'entropia poi tutto il principio io sto sto leggendo da sto leggendo da wikipedia ovviamente cioè non è che sto sto a inventare cose sto leggendo da wikipedia quindi il problema è che come dice Mario Draghi chi si vaccina è destinato a morire si ribalta chi non si vaccina rimarrà vivo rimarrà libero rimarrà cosciente di se stesso rimarrà consapevole i movimenti termodinamici dice che il movimento termodinamico è irreversibile dice che è irreversibile eh dice che è irreversibile questa funzione di stato si chiama l'entropia quindi l'entropia aumenta il disordine in continuazione è irreversibile non si può non si non puoi tornare indietro nel momento in cui trasferisci appunto se tu trasferisci calore da un corpo all'altro aspetta ad esempio il passaggio di calore da un corpo alto caldo a un corpo freddo sono irreversibili nel senso che se io trasferisco calore da un corpo all'altro non può essere reversibile tipo trasferisco calore e poi torno indietro no trasferisce calore e quello è irreversibile lo trasferisce con il tempo fino a che quell'altro corpo non è diventato caldo e non è avvenuto il trasferimento non è irreversibile per questo sto dicendo capito però non parla di ecco che cosa c'entra tu dici che parla di calore cioè tu dici tu dici che c'entra con questo sto dicendo che c'entra c'entra nel nel fatto dell'irreversibilità quindi se si utilizza l'universo e c'è un nell'universo ci sono tanti movimenti termodinami c'è uno scambio continuo movimenti è un continuo muoversi nel momento in cui si muove cioè irreversibile va avanti ok va avanti non può tornare indietro questo dice lui rimarrà sano fisicamente e questa è la mia impressione è quello che io vedo dal mio osservatorio e questo lo dico perché forse non si è capito che in questo universo la coscienza quindi il secondo principio della termodinamica prevede che una cosa che si chiama dualità non esiste cioè non esistono i buoni e i cattivi eh esistono i che è un concetto duale esistono i non consapevoli e i consapevoli non esiste un'anticonsapevolezza cosa voglio dire che la consapevolezza non ha un segno meno va da zero a infinito cioè appunto sbagliando si impara noi cresciamo e maturiamo no? cioè a meno che non ci abbiamo una problematica di regressione ma quella è una malattia una malattia che colpisce le parti fisiche la la consapevolezza aumenta quindi nel momento in cui ci viene allora noi siamo corpo 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 caldo anzi corpo caldo corpo freddo ok quindi esperienza uomo senza esperienza nel momento in cui viene nel momento in cui viene trasferita e viene fatta esperienza è irreversibile esatto tanto alla fine muori infatti è quello che dico io che senso ha fare tutte queste cose tanto alla fine tutti moriamo perché uno secondo me è un gioco magari il padrone quello che vuole guadagnare i soldi vuole giocare sul ah io comando quelle persone ah che bello cioè per dirle in modo molto diciamo qualunquista io controllo le persone perché ho i soldi e i soldi che le persone devono lavorare per me così se no non guadagno se no non mangiano ma perché fai sta cosa tanto prima o poi muori eh però intanto sto in vita quindi lo faccio ma lo fai per sopravvivere no perché comunque in tutta la vita poi quei soldi che fai che li spendi cioè ma alla fine muori quindi che te frega se hai speso tutti quei soldi se hai fatto tutte queste esperienze è perché è un gioco secondo me cioè è un gioco lo fa per essere felice secondo me non è a felicità questo secondo me è proprio giocare gusto per gusto ecco non è a felicità non è non vuol dire fare qualcosa con gusto non vuol dire essere felice non c'è un'anticonsapevolezza la consapevolezza è l'unica cosa che descrive la coscienza che non è duale detto questo cosa vuol dire no quindi che i nostri governanti che non sono lo Stato lo Stato siamo noi i governanti sono altri i nostri governanti che vogliono governare lo Stato siano cattivi o siano buoni non sono né cattivi né buoni non è necessario fare una lotta armata contro questa gente questi scompaiono da soli anche se te non fai niente questo dice il secondo principio della termodinamica e come possiamo applicare questa regola nel mondo di oggi nella vita quotidiana come possiamo è semplice basta dire no buongiorno io sono il carabiniere tal dei tali lei si deve vaccinare sto cazzo è finita sto cazzo non ti non ti può fare niente di fronte al tuo N O no non lo faccio in quel caso tu hai fatto un atto di volontà cioè di non volontà ti devi vaccinare no non lo voglio no pensate un attimo ad utilizzare questo tipo di di espressione poi sapete la zombizzazione è diventata una religione ci sono gli zombizzati e i non zombizzati allora gli zombizzati sono religiosi i non zombizzati sono agnostici cioè sostanzialmente seguiranno le loro varie religioni allora te cosa fai per rispetto dei religiosi ti vuoi mettere la mascherina e mettiti la mascherina così loro sono contenti perché sennò si sentirebbero offesi se tu gli vai nel muso e gli respiri nel muso allora te ti metti la mascherina così loro non si sentono offesi e tu democraticamente hai rinunciato a un pezzettino della tua libertà per far sentire contento lui che ha paura di morire certo che ha paura di morire perché? perché è già morto qui dentro ed è per questo che ha paura di morire perché uno che non si fa zombizzare evidentemente non ha questa paura e ci sarà un motivo e il motivo no lo vedi lo vedi non hai compreso che è quello che ho già detto già detto prima qui non si parla di negazionismo qui si parla di altre cose ok qui si parla di ci sono delle persone che hanno paura di morire per cui vogliono che tu ti metti la mascherina però te lo stanno imponendo a te tu per rispetto di queste persone che hanno paura di morire te la metti ok quindi no hai la scelta di dire no sul vaccino no hai la scelta di dire no ma nel senso nel momento in cui non rispetti le altre persone poi non ti devi aspettare che ti rispettino a te cioè nel senso e come appunto le fedi religiose no si rispettano perché ognuno ha libertà ha la propria libertà però ovviamente nel rispetto alle cose tu e dal mio modestissimo punto di vista è che ha più coscienza di sé tutto lì più coscienza di sé allora lui dice che l'universo è sempre in espansione è sempre in movimento noi attiriamo nell'universo quello di cui abbiamo paura perché la paura è un sentimento forte ed è vero io l'ho sperimentato praticamente quando sono psicologo ha anche mi aiutato in questo nel momento in cui uno ha paura di una determinata cosa la attira quindi il fatto il fatto della mascherina di portare sempre la mascherina prevede che tutti siamo potenzialmente infetti quando alla fine non è così perché se io sono sano se io sono sano e mi metto la mascherina è per rispetto verso un'altra persona come se hai la malattia ovviamente se sei positivo per rispetto per le altre persone non esci non gli stai non gli fiati sul muso come dice lui però tanto comunque con la mascherina te lo becchi e se lo beccano pure gli altri perché comunque cioè non filtra tutto te lo becchi di meno è una questione di rispetto non è una questione di dire non esiste o esiste cioè non è il fatto di negare o dire no sono contrario alla mascherina ognuno fa quello che vuole però nei limiti del rispetto io per esempio io per esempio perché mi devo fa imporre la mascherina in un luogo aperto dove sto da solo non ha senso questo dice il buon senso pure no poi io non è che vado dalle persone affiataglie in faccia il che le persone giustamente hanno paura di morire io mi tutelo perché ovviamente non si sa mai basta funziona così la libertà è una cosa che non è mai esistita perché essere liberi vorrebbe dire non recitare più il ruolo che la società ha deciso che tu debba recitare tu sei un professore universitario esatto allora per esempio Sara mettendo sempre la mascherina mettendo guardate questa differenza magari mi direte ma dipende dalla carica virale va bene allora lei si è messa la mascherina mette sempre la mascherina però ha preso il covid è stata con qualche piccolo sintomo poco poca roba semplice raffreddore e ovviamente doveva stare doveva stare in quarantena la colpa la colpa non esiste la colpa no non è vero guarda ti faccio un esempio ti faccio un esempio se io ho la mascherina dimostavo usando il carcino allora questa è la mascherina questa è la mascherina giusto allora io ho sta mascherina l'ho messa va bene mi proteggo come ok ma questa mascherina qua davanti qua davanti se c'è il virus il virus si sta qua sopra a contatto con la superficie quindi la mascherina mi ha utilizzata pure bene perché se io faccio così e poi per un attimo me la tolgo e poi mi gratto l'occhio il virus c'è il virus c'è comunque esatto se stai a se stai a casa da solo per sempre quindi la mascherina funziona perché limita alcune cose ma va utilizzata bene esatto va utilizzata bene e non è facile utilizzarla bene quando dopo una giornata di lavoro ti prendi i mezzi fa quello quindi che ho fatto io io posso dirlo non non ho temuto perché poi ho detto vabbè io con Sara ci sto praticamente a contatto sempre quindi avrei dovuto aver preso pure io quindi io mi sono isolato insieme a lei e ho rischiato ho rischiato non lo so non temevo un caso io non temevo di infettarmi di ammalarmi non lo temevo risultato dieci giorni in quarantena in una stanza insieme a lei e io non ho preso il virus non l'ho preso non l'ho neanche preso quindi anche se la cosa si può spiegare scientificamente cioè che lei non era contagiosa perché la carica virale era più bassa io comunque rischiando sulla carta perché sono andato contro alle alle regole le regole alle norme di protezione che diceva il studio sui problemi e ho fatto il tampone ho fatto il tampone e è risultato negativo tutta la famiglia mia è risultato negativo eppure sarà ogni tanto il fine settimana sarà sempre da noi a casa di là e quindi cioè i miei nessuno nessuno positivo oppure è stata in casa cioè ha toccato cose qua e là i miei pure sono stati abbastanza come dici i miei non sono persone che si spaventano cose hanno detto no vabbè quindi ho detto guarda preferisco sta sarà positiva preferisco che comunque si fa la quarantena ma la faccio io insieme a lei quindi siamo fatti la quarantena insieme e io sono risultato negativo al tampone non sapevamo ancora non sapevamo cioè il test se l'è fatto dopo tot perché comunque comunque tu il virus te lo porti a presso poi dopo c'è un periodo di incubazione c'è un periodo di incubazione che 15 giorni e poi dopo fanno se ci stanno i sintomi se sei sintomato dipende vabbè comunque andiamo troppo off topic mi sa questa roba quindi io non l'ho preso non l'ho preso perché non l'ho preso perché non avevo paura può essere esatto io sono d'accordo io sono d'accordo con il professor Malanga perché io so che con la paura si attirano le cose quindi chi ha paura se la attira anche se sta attento eccetera eccetera chi ha paura se la attira universitario reciterà il ruolo di professore universitario poi cambi lavoro la società ti dà un altro ruolo e tu come marionetta reciti il ruolo che la società vuole la vera persona libera è una persona che non recita il ruolo che gli altri per esempio un Mario Draghi o un Giuseppe Conte ti hanno affidato la persona libera è quella che recita il ruolo suo io per quale partito voto per il mio di cui io sono l'unico votante no allora praticamente il professor Malanga ha spiegato no no ti rispondo veramente su sta cosa rispondo in modo serio lui ha avuto dei problemi alla vista perché praticamente lui ha scoperto ha fatto l'analisi e praticamente lui non voleva vedere la sua coscienza gli ha fatto accadere un qualcosa per cui tipo un problema alla vista perché lui non voleva vedere la realtà che lo circondava e cioè lui era circondato da persone ostili che non capivano i lavori che faceva anzi che erano abbastanza accademici proprio con i paraocchi che prendevano in considerazione niente praticamente di quello che non era classico e appunto quindi quando ti circondi da cosa ostile dice è meglio che non guardo e quindi praticamente lui ha avuto questo problema alla vista poi per un periodo ha portato gli occhiali scuri mi ricordo poi non lo so come eseguito la sezione l'unico presente l'unico iscritto io ho facoltà di dire che mi prendo su di me tutte le responsabilità della mia vita non do le responsabilità della mia vita a un primo ministro quando mai soprattutto quando questo primo ministro non ha la più pallida idea di quello che sta dicendo non sto dicendo che è cattivo che è in mala fede magari anche sto dicendo semplicemente e questo è sicuro che è inconsapevole di quello che sta facendo cioè il capo degli zombie è in realtà il primo zombie è in realtà colui che a specchio si specchia in tutti coloro che hanno deciso di zombizzarsi quante volte noi ci siamo lamentati che avevamo un governo che non ci piaceva bene il governo non ci piaceva perché a specchio noi creiamo a specchio fuori la realtà delle cose che noi di noi non abbiamo capito quindi se noi abbiamo avuto sempre dei governi di bastardi di personaggi negativi era semplicemente perché una parte di noi degli italiani era così era così quindi è più facile oggi dire do la fiducia ad un governo qualsiasi qualunque esso sia pur di non dire mi prendo io la responsabilità del governo dell'Italia cioè capite qual è praticamente lui sta dicendo che il governo il popolo è specchio è lo specchio del governo ma infatti io sono d'accordo con lui cioè nel senso non è una cosa a caso cioè se dici ma il governo è pieno dei mafiosi perché l'Italia è pieno dei mafiosi perché è permessa una cosa del genere perché non abbiamo senso civico perché non abbiamo il rispetto per gli altri ci tocca subire perché poi scegliamo di delegare come dice lui appunto dei politici dei ministri delegare alle nostre responsabilità e allora ci prendiamo questo rischio ci prendiamo tutte le conseguenze del caso perché io mi prendo la mia responsabilità giustamente di governarmi ma me la devo prendere però non devo delegare qualcuno io mi devo prendere la responsabilità di governarmi cosa che è molto 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 difficile ogni cittadino 70 milioni di italiani ogni cittadino che si prenda la responsabilità su se stesso e decida di mandare a casa tutti quelli che non sono mai serviti se non ad affossare quella che era l'ipotesi l'idea la creazione di una libertà e di una democrazia che in Italia non sono mai esistiti ma ovviamente lo ripeto questo è il mio punto di vista come finirà? finirà bene perché l'entropia se ne è fotte di tutte queste cose l'entropia con la consapevolezza e con la coscienza umana va sempre avanti troverà l'entropia cioè l'universo il modo di spazzare via tutti coloro che all'interno della costruzione dell'universo non seguono le leggi dell'universo quindi non è necessario fare una guerra non è necessario fare qualcosa basta non fare niente e come si fa a non fare niente dicendo no non lo faccio questo è quello che si deve in realtà fare è l'unica cosa che gli italiani devono fare di fronte a un qualsiasi tipo di sopruso che non gli compete che non gli interessa che non vogliono fare è semplice dire no certo io capisco le persone che sono state costrette a dire sì anche se non volevano capisco il suo stato d'animo il loro stato d'animo io al loro posto ci ho pensato io al loro posto avrei comunque detto di no e nella mia vita mi è successo questo di andare contro i miei interessi più di una volta dicendo no a chi mi comandava questo forse è uno dei motivi per cui non ho fatto tanta carriera nell'università ma la vedo dal mio punto di vista e allora la buona notizia è diciamo semplicemente no non c'è bisogno di andare a strillare vogliamo la libertà che ci avete tolto perché dicendo così voi state dando cari italiani che andate in piazza a manifestare voi state dando al potere l'idea che il potere ha potuto togliervi la libertà nessuno vi toglie la libertà la libertà è una cosa che c'è dentro di noi no fuori non te la deve dare draghi la libertà tu sei la libertà ma finché non si capisce questo la battaglia sarà un po' difficile non ti dico persa in partenza perché si vince perché il secondo principio della termodinamica dice noi vinciamo ecco siccome più mi aveva chiesto il mio parere io ve l'ho detto fare informazione indipendente non è facile sostenerci è davvero semplice semplicissimo vai su mepiù.it slash sostieni grazie cioè praticamente è un po' uno sim uno sim si può dire cioè sostieni mai più cioè non la sostenere mai più me più ma mai più o me più ma me più no mai più ah ok no ho sbagliato io ok ho sbagliato io va bene ragazzi io vado perché è tardissimo mi è mi ha stimolato molto questa conversazione questa sera l'ho fatta sono riuscito a fare tre ore di live anche se non stavo proprio molto bene quindi se volete ci stanno altre altri video poi studio sereano vaccino e gioco i casi di miocardia e topopheiser rivelo studio sereano vabbè questo qui purtroppo lo sappiamo quindi ve l'ho già detto quindi se voi non volete dite di no ovviamente quindi basta senza far battaglie senza basta dire di no facilissimo grazie ancora per la compagnia e ci vediamo alla prossima live no non volete vedere la mia live no no guardate allora basta ciao buonanotte grazie